Siamo stati uomini che hanno scritto a pagina Tutti in una vita tra valori inissimabili Non si istruirà, non è iniziato il più corrompo Si sente posto e si ignorava Un uomini, un maggiore Magari suol'era Se come a per una buona In crescita in espr maioria Si dispior datos di sonni Non penso che non si furono Grazie a tutti. Non sono musica, non sono musica, la testa si gira giusta, la mia ragione, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa, che puoi decidere, tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa tra le mani. Ci sono stati voli, chiedendo quanti mali, non lo senti, torno, sto spunto, bruciando perché il foglio non sta qui, non ha significato, scoperto, non è un fucile di mutare, non è un pasto, 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 non è un pasto. Pensa, che puoi decidere, tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa tra le mani. Grazie.